Un saluto a tutti i telespettatori, benvenuti a questa nuova edizione di Nota News. Tutto pronto per l'avvio degli Stati Generali dell'Economia. A Palazzo Ducale è stato presentato ufficialmente il programma dell'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale e che potrà avvalersi di un partner davvero importante, l'Università del Salento. L'obiettivo, ambizioso, complesso ma assolutamente sostenibile, è quello di monitorare l'andamento economico della città e approntare le azioni più appropriate per il suo sviluppo. In questo percorso, come dicevamo, l'amministrazione comunale sarà affiancata proprio dall'Università del Salento che ha redatto un ricco programma di studio, partecipazione ed elaborazione. Vediamo il servizio. Questo tema, parlare di economia all'interno della pubblica amministrazione, è sempre un po' difficile. Sono state sempre attività distinte, la pubblica amministrazione e dal mondo privato imprenditoriale. In realtà l'ampia partecipazione e soprattutto gli interventi ampissimi ci dà quella carica in più per provare veramente a usare e a scrivere questa nuova pagina per il nostro territorio. Parlo non di Martina ma parlo di territorio intero. Ampia partecipazione di imprenditori, rappresentanti sindacali, responsabili di partito, professionisti di vari settori, attenti e propositivi soprattutto dopo l'intervento dell'ospite per eccellenza, il magnifico rettore dell'Università del Salento, professor Fabio Pollice, che affiancherà nel progetto l'assessorato allo sviluppo economico. È una sfida entusiasmante per l'Università e per il territorio, perché in realtà in questo momento noi stiamo anche creando un modello di progettazione del futuro, un modello condiviso, partecipato, che può rappresentare anche un'azione pilota, potrebbe essere emulata da altri contesti territoriali. Un progetto che punta a mettere insieme i vari attori del territorio per definire le linee guida guardando più che lontano in prospettiva. I primi mesi serviranno a progettare e proporre le migliori alternative, affinché il futuro, soprattutto dei giovani, regali su questo territorio possibilità di lavoro e sviluppo alternativo e sostenibile. Penso che la Puglia sia una regione ideale nella quale studiare. La qualità della formazione universitaria è elevata e la qualità della vita è elevata. Io credo che le comunità locali debbano riappropriarsi della propria identità, ma non in termini autoreferenziali. Non deve essere uno sviluppo economico, deve essere uno sviluppo che tende a un miglioramento delle condizioni di benessere attuali e prospettiche. E in questo è implicito il riferimento alla sostenibilità. Cioè queste comunità devono in qualche modo comprendere che esiste la possibilità di un futuro di sviluppo per questo territorio, ma questo dipende largamente dalla loro volontà di porre in essere un insieme di azioni coordinate e convergenti. E questo è il piano di sviluppo economico. Intanto è sempre la questione relativa all'ampliamento dei parcheggi a pagamento ad animare il confronto politico e cittadino dentro e fuori Palazzo di Città. Nei giorni scorsi la giunta Ancona ha deliberato ulteriori agevolazioni. Sono stati introdotti sempre al costo di 100 euro annui abbonamenti di tipo F1, F2, F3 ed F4 che consentiranno ai residenti nelle prospicenze delle aree di Via Fanelli, Via della Libertà, Corso Messapia e nelle vie Virgilio, D'Annunzi e Paolotti di sostare 24 ore su 24, ma solo nell'area a pagamento dove è ubicata la loro abitazione. I residenti del centro storico potranno ottenere, e sempre al costo di 200 euro, anche due abbonamenti di tipo B per la sosta H24 in tutto l'anello extramurale nel parcheggio Rivele Europa. E ancora all'orario di fine sosta per gli abbonamenti light è stato posticipato di mezz'ora, dalle 8.30 alle 9, così come quello di inizio sosta per gli abbonamenti light di tipo B. Da Palazzo Ducale fanno sapere che l'agevolazione potrà essere concessa a tutti coloro che risiedono o dimorino abitualmente in isolati lambiti o fronteggianti le aree a pagamento. E tra le agevolazioni concesse anche 7 pass per la sosta gratuita destinati ai donatori di sangue. L'iniziativa nata da una richiesta esplicita avanzata dall'Avis, l'associazione volontari italiani sangue di Martina Franca, ha riscontrato il parere favorevole dell'assessore alla mobilità urbana Pasquale Lasorsa, che è così provveduto alla consegna ufficiale della sette tessere. Affidati ai dottori Francesco Caretta e Valentino Basile, i pass saranno consegnati a tutti gli utenti del centro emotrasfusionale che potranno dunque sostare gratuitamente in piazza San Francesco da Paola per tutto il tempo della donazione del sangue. Vediamo. Da oggi i donatori quindi potranno parcheggiare in piazza San Francesco gratuitamente esponendo il pass che qui riceveranno quando verranno a dichiarare di voler fare la donazione. È una delle tante agevolazioni che rientra nel nuovo piano comunale della sosta che prevede peraltro anche agevolazioni in favore delle neomamme o delle donne in attesa di un bebè, così come in favore dei veicoli ibridi ed elettrici e in favore di residenti e commercianti sia del centro storico che del centro urbano. Da anni che stavamo richiedendo una serie di parcheggi per i donatori, l'amministrazione comunale si è messa a disposizione e finalmente oggi abbiamo avuto questo tipo di agevolazione per i donatori che è molto importante sullo strato sociale martinese. Usufruirne è semplice. Una volta parcheggiata l'auto in piazza San Francesco, presentando un documento di riconoscimento, si ritira il pass all'accettazione del reparto di medicina transfusionale per poi esporlo sul cruscotto dell'auto, ricordandosi inoltre di indicare l'orario di arrivo sul disco orario. Sicuramente il problema del parcheggio è un problema molto sentito, non solo per il fatto dei costi quanto per i tempi, perché naturalmente il donatore che già viene a dare del proprio tempo qui non deve aggiungere anche perdita di danaro. Quindi quello che è stato fatto dall'amministrazione comunale di concedere dei passi per poter avere la possibilità di parcheggiare gratuitamente è una delle cose più belle che potevano accadere in quanto già in altre realtà tipo Castellaneta o Taranto stessa non si riesce ad ottenere qualcosa del genere. Si sono svolte martedì 11 febbraio due conferenze stampe che hanno avuto Martina Franca e i comuni della Valle d'Itria come protagonisti presso la BIT, Borsa Internazionale del Turismo di Milano, presso il Padiglione Puglia. Nella prima di queste la presentazione della nuova edizione del Festival della Valle d'Itria, un palcoscenico europeo, con la presenza di Loredana Capone, assessore all'industria turistica della Regione Puglia, Aldo Patruno, dirigente del Dipartimento Turismo della Regione Puglia e Franco Punzi, presidente della Fondazione Paolo Grassi. Nel corso della seconda conferenza l'esperienza in Valle d'Itria tra arte, gusto, musica e paesaggio con i comuni di Martina Franca, Locorotondo, Cisternino che hanno presentato le attrattive e gli eventi di rilievo previsti per la primavera e l'estate 2020 nel nostro territorio. Insieme all'assessore al turismo Gianfranco Palmisano del comune di Martina Franca sono intervenuti il vice sindaco del comune di Locorotondo, Vittorino Smaltino e l'assessore alla cultura e al turismo del comune di Cisternino, Francesca Tozzi. Parliamo ora di ambiente perché dal 30 gennaio sono entrati in funzione i due nuovi eco-moduli per la raccolta differenziata ubicati nel parcheggio di via Monsignor Olindo Ruggeri. Uno riservato alle utenze non domestiche della città che potranno ritirare gratuitamente le buste dal distributore per il conferimento di plastica, alluminio, carta e vetro. L'altro che potrà essere utilizzato da tutti i cittadini mediante la tessera sanitaria. Ne abbiamo parlato con l'assessore all'ambiente Valentina Linoci che intanto nei giorni scorsi ha lanciato anche la nuova campagna informativa sulle corrette modalità di raccolta differenziata anche attraverso il potenziamento della fornitura di buste compostabili per l'organico. Fatte le percentuali adesso l'impegno di tutti è quello di lavorare sulla qualità della raccolta differenziata. Siamo partiti con un'attenzione particolare alla frazione organica perché ancora dobbiamo purtroppo constatare che alcuni cittadini nel differenziare la frazione organica si avvalgono ancora di buste di plastica o comunque di sacchetti non compostabili. Questo crea dei danni ingenti perché nel momento in cui questi rifiuti vengono portati negli impianti di cui il Comune si serve per lo smaltimento di questi rifiuti vengono effettuate delle analisi e questo purtroppo porta all'applicazione di alcune penalità da parte degli impianti nei confronti del Comune che vengono appunto pagate con i soldi di tutti i cittadini. Per cui riteniamo che in questo momento lo sforzo che tutti dobbiamo fare debba essere quello di incrementare la qualità della nostra raccolta differenziata per questo, per aiutare i cittadini in questo sforzo abbiamo come amministrazione acquistato una fornitura di buste compostabili. A partire dal 17 febbraio 2020 potrete ritirare ulteriori buste per quanto riguarda il corretto conferimento della frazione organica quindi buste biodegradabili compostabili conformi alla legge. Volevamo anche ricordarvi che a partire dal 17 febbraio andrà in onda uno spot realizzato da Monteco in collaborazione con l'amministrazione comunale dove parleremo del corretto conferimento della frazione organica. Guarda nonno, questo articolo parla della raccolta differenziata dell'organico Certo! Ma secondo te a Martina lo differenziamo correttamente? Cicara, a Martina l'organico lo differenziamo perfettamente Avanzi di cibo, scarti della verdura, crucioli di legno cenere spenta, sughero bucce della frutta, gusci di uova, fondi del caffè tovaglioli e fazzoletti di carta sporchi filtri di tè, camomilla e tisane i gusci delle cozze cartone della pizza sporco ridotte in piccoli pezzi lettiere per animali naturali sole in buste compostabili e biodegradabili, mi raccomando! non usare buste in plastica non usare mai le buste nere Continuiamo a parlare di ambiente Martina città sempre più plastic free scadrà infatti il prossimo 21 febbraio il termine per aderire ai due diversi avvisi pubblici varati dal comune per premiare le attività commerciali che adottano buone pratiche a favore dell'ambiente il primo rivolto a 10 attività commerciali del settore food che eliminando completamente per almeno 9 mesi l'utilizzo di plastica riceveranno un contributo di 500 euro a testa il secondo che mira invece a creare una short list delle attività commerciali di qualsiasi natura che mettano in piedi meccanismi virtuosi volti alla riduzione del consumo di plastica sono positive le prove del carico del ponte del cantiere in via Alcide De Gasperi in questi giorni sono state effettuate le prove di carico concluse con esito positivo sul ponte che insiste su via Cristo La Grotta nel dettaglio sono stati posizionati sotto al ponte numerosi flessimetri uno strumento utilizzato per il collaudo delle strutture e sono stati utilizzati più camion dal peso di 380 quintali collaudo che ha dato esito positivo e che nei prossimi giorni permetterà di procedere a un primo asfalto del tratto di strada interessato dai lavori e successivamente potrà essere riaperta la stessa è stato presentato nella sala convegni della parrocchia di Cristo Re il documentario Legno vivo Xilella oltre il batterio lavoro che vuole essere spunto di riflessioni e approfondimento sulla questione Xilella una delle tematiche che negli ultimi anni ha imperversato maggiormente nel dibattito pubblico, mediatico e politico assumendo preoccupanti risvolti non solo agricoli ed economici ma anche ambientali, sanitari, giuridici e sociali a promuovere l'iniziativa l'associazione Cosate Valle d'Itria e il movimento per la carta dei diritti di madre terra vediamo il servizio Legno vivo, un qualcosa che al di là di quanto comunica adesso a chi lo vede a chi lo continuerà a vedere e chi lo vedrà ha sicuramente dato tanto anche a voi, autori e protagonisti principali Tutta la vicenda Xilella sicuramente ci ha messo anche in discussione umanamente direi non a caso il titolo Xilella oltre il batterio è un invito proprio ad andare oltre perché qua si chiama Xilella, da una parte si ha un altro nome tra qualche anno magari ci sarà un altro batterio, un altro virus il problema, quello che abbiamo potuto vedere è che questa è una questione proprio di rispetto rispetto verso la terra, rispetto verso il lavoro, rispetto verso noi stessi come esseri umani cioè ridare dignità al nostro rapporto con gli esseri viventi e con il suolo col terreno, con la vita, con gli alberi potrebbe essere un buon punto di partenza se non altro un buon punto per far partire una riflessione in generale oltre il batterio Avete ricordato come questo film mostrato come inaugurazione all'interno del luogo forse principe quello che pigia i tasti verdi o rossi quando siete andati in Parlamento, in Senato purtroppo vi erano solo cinque A me personalmente non mi ha sorpreso per niente Credo che a livello politico i parlamentari, le persone che sono davvero interessate al bene comune a fare qualcosa di buono per i territori siano davvero poche e sempre meno si risponda a quel livello altri interessi che non sono quelli quindi penso anche che va bene così nel senso è ora che le persone smettano di delegare e che iniziano ad agire per il proprio territorio sul proprio territorio la risposta arriverà secondo me dal basso ma non nel senso che sono più in basso ma dal basso proprio da ripartire dalla terra riportiamo dalla terra e da noi stessi senza più affidarci a una politica che da tempo non dà più risposte La legge 3 e le possibilità di porre rimedio in maniera concreta le sempre più numerose situazioni di sovraindebitamento che investono oggi i cittadini, aziende e nuclei familiari su questo tema l'AQE, l'Associazione Consumatori Utenti Europei ha organizzato un interessante convegno informativo per illustrare in dettaglio alla presenza di illustri relatori ed esperti del settore le molteplici opportunità concesse da questo strumento legislativo il suo funzionamento a chi è rivolta vediamo Riteniamo che questo è l'inizio di un ciclo di conferenze anche perché questa normativa che cambia nel nuovo anno deve essere conosciuta un po' da tutti perché la nuova normativa prevede che il creditore in maniera automatica senza neppure interpellare il debitore quindi senza neppure fare per esempio l'atto di precetto come si faceva adesso per un debito può in automatico chiedere la liquidazione di tutto il patrimonio dell'indebitato nei suoi confronti quindi facciamo un esempio se uno ha un debito di 3.000 euro potrebbe vendergli la casa per recuperare i 3.000 euro quindi questa procedura riformata è bella da un lato perché dà la possibilità anche a chi ha zero di potersi sdebitare però il consiglio è che chi ha un debito dovrebbe prevenire utilizzando questo strumento in maniera tale che non si ritrovi domani mattina con una lettera del tribunale che gli va a liquidare il patrimonio Che strumento è la legge 3 riguardo alla possibilità di affrontare le situazioni di sovrindebitamento? Sì, quindi la legge 3 in pratica consente un controllo da parte del tribunale delle eventuali situazioni di sovrindebitamento nelle quali qualsiasi soggetto quindi non necessariamente imprenditore ma anche consumatore, anche professionista anche start up innovativa dovesse venirsi a trovare per le regioni più disparate è rivolta a tutti ha consentito di risolvere diverse posizioni debitorie in capo a diversi soggetti a differenza di quanto avveniva prima quando il tribunale interveniva per gestire le crisi limitatamente alle attività agli imprenditori commerciali cosiddette sovrasoglia Oggi invece anche i privati consumatori sono fortunatamente tutelati dalla legge tanto che quando si parla di legge 3 si parla anche di legge salva suicidi Oggi è possibile ripianare situazioni che in passato non era assolutamente possibile risolvere Con il decreto legislativo 14 del 2019 è stato inserito il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza che ha inglobato la legge 3 e che l'ha modificato o introdotto nuovi elementi In effetti se fino al 14 agosto abbiamo solo 3 procedure piano del consumatore, accordo liquidazione con l'entrata in vigore del codice della crisi avremo 5 procedure con nomi diversi rispetto a quelli attuali non avremo più il piano del consumatore ma avremo il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore non avremo più l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ma un concordato minore non avremo più la liquidazione del patrimonio ma liquidazione controllata del sovraindebitato e cosa eccezionale e importante è stata inserita l'esdebitazione del soggetto incapiente cioè del debitore incapiente che non ha nulla e che vorrebbe ritornare ad essere un soggetto attivo dell'economia quindi con la nuova legge 3 inserita nel codice della crisi dell'impresa anche il soggetto nulla tenente potrà ottenere la cancellazione della debitoria L'amministrazione comunale, assessorato alle attività culturali e diritto allo studio e il teatro pubblico pugliese hanno presentato il progetto La Poetica della Vergogna coprodotto dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 e Rete Teatro 41 per Matera Capitale Europea della Cultura 2019 iniziativa nell'ambito della programmazione teatrale del Comune di Martina per il 2020 lo spettacolo teatrale Umana Vergogna andrà in scena al Teatro Verdi di Martina il prossimo 19 febbraio Bene, è tutto per questa edizione e arrivederci ai prossimi appuntamenti e arrivati a tutti i giorni e a tutti i giorni